C'è, puoi capire cosa c'è sta nuova tra bimba? Le coliche. Le coliche. Ecco, oh, ma ti sentivo che sei andata a correre, ma sono andata a correre anch'io, volevo fare mezz'ora, dopo un quarto d'ora mi sono sdraiato a terra nel giardino, io non sapevo nel parco, non sapevo che giustamente nessuno si può sdraiare, però se no fai assembramento, sono venute le guardie, che cosa fai qua? Ma io ho detto, non volevo fare la figura di mezzo, non ce la facevo, ancora mi riconoscevano, ho cominciato a fare gli addominanti, non so perché così, non sapevo se mi riconoscevano, e mi ha cacciato, quarto d'ora ho fatto, non ce l'ho fatta. Questa è una cosa, Nick, è dura a correre, io battiti, non faccio una fatica io, cioè, erano due mesi che sono in casa, la due giornata ho corso, non faccio fatica a correre io, è noioso, mentalmente, 100 metri, mi sembrano tre ore, non passa nemmeno la c***a,